Siamo con le nostre telefonate, i nostri interventi, perché vogliamo parlarvi adesso di una realtà molto bella che c'è a Verona, che è il Museo della Radio. Il Museo della Radio, abbiamo in collegamento Francesco Chiantera, presidente del Museo della Radio di Verona. Benvenuto Francesco. Buongiorno, buongiorno a tutti. Dove si trova in questo momento? Io sono in una delle splendide cornicie di Verona, non conosciute in più, sono all'interno della monumentale Porta Vescovo. E cosa c'è a Porta Vescovo? A Porta Vescovo abbiamo come associazione Museo della Radio, a volta alla riqualificazione, alla rivalorizzazione dei beni, tra virgolette, abbandonati della città, Abbiamo creato, è stato creato dallo staff del Museo, di R900, una mostra-evento dedicata a Verona, a Veronetta, e alla comunicazione del Novecento di questa zona. Una mostra volta all'evoluzione comunque storica del Novecento e anche come contenitore per artisti. Come si vedono alle mie spalle, oltre a mia figlia, come si vedono alle mie spalle, ci sono dei quadri di un artista della zona che esporrà, Barry Grisanti, che esporrà all'interno di Porta Vescovo, di questo contenitore, per ridonare lo splendido monumento alla città e soprattutto indispensabile per evitare degrado e quant'altro. Quindi abbiamo due obiettivi, uno è la riqualificazione di Porta Vescovo, l'utilizzo di questo splendido contenitore, e nello stesso tempo la valorizzazione di alcuni pezzi unici del Museo della Radio, in particolare di quali? Allora, si troveranno tutti i pezzi donati al museo, perché oltre alla radio il museo è simbolo della comunicazione. Guglielmo Marconi dall'antenna wireless, la storia della comunicazione. All'interno di questa mostra evento, speriamo permanente, si troveranno dei pezzi dedicati a Veronetta. Ci sarà la macchina da cinema del Novecento, del cinema Smeraldo di Via 20 Settembre, ci sarà una linotype, una macchina storica a livello tipografico, sempre dei primi del Novecento, ci sarà il ripetitore della RAI, della radio RAI AM di Castel San Pietro, e poi dalla collezione privata di Alberto Chiantera, mio padre fondatore del Museo della Radio 20 anni fa, ci sarà una collezione inestimabile dedicata, in questo caso, all'opera lirica, ai tenori, soprattutto, anzi, esclusivamente ai tenori e ai soprani che hanno fatto Grande Verona da Zenatello in poi. Allora, venendo lì, uno può un po' ripercorrere le tappe della comunicazione che ha fatto passi da gigante in questi anni, dagli apparecchi radio più antichi ai sistemi più recenti, è così? Certo, Via Re Novecento è anche simbolo dell'innovazione tecnologica, Via Re Novecento, andando sul sito www.museodellaradio.com, è la prima piattaforma che rende visibile un monumento in 360 alla città di Verona. Entri, entri virtualmente dentro la porta, gratuitamente, la puoi visitare, e soprattutto è ricca di contenuti che vengono aggiornati settimanalmente. Ecco, è importante, questo è gratuito, tra l'altro, andando sul sito che ha citato, c'è anche una visita virtuale, volendo, un po' già... Certo, è un'esclusiva del Museo della Radio, è una prima esclusiva perché non è mai stata fatta prima, è proprio un tour in 360, passeggi dentro a Porta Vescovo, anche se sei dall'altra parte del mondo, sempre grazie a Guglielmo Marconi che tagliando i fili ci ha permesso la connessione globale. Ecco, so che avete promosso anche un contest fotografico, un evento, è così? Assolutamente, in linea con la sinergia col territorio, cioè questo vuole essere un contenitore di artisti, di contest, in questo caso fotografico, per vedere quello che è la visione di Verona nella quarantena. Questo deve essere un punto di riferimento di Verona e Veronetta, un punto indispensabile, oltre che per andare contro il degrado e per dare una sicurezza massima ai cittadini, proprio per dare la possibilità ai cittadini di vedere questo splendido monumento che non è mai stato aperto in questa maniera, cioè come contenitore culturale. Praticamente per Verona, che in questo momento, scarseggiando purtroppo di turisti, per Verona, per i veronesi. Allora, Francesco, ancora pochi secondi, la passione grandissima di suo padre, che aveva questa collezione che ha voluto mettere a disposizione di tutti, la sua passione, sua figlia, e anche lei appassionata di radio. Eh, la mia sì, appassionata proprio di innovazione tecnologica. Gli piace il bello, quello che è bello, arte, qualsiasi cosa. Mi segue, gli piace, saluta tutti. Ciao. Come si chiama? Mia. Mia, allora ti auguriamo di imparare le tecniche più recenti, di essere a passo con i tempi, senza dimenticare tutto veramente il nostro patrimonio storico che ha permesso tutto questo progresso. Grazie, Francesco, per averci illustrato questa chicca presente a Verona visitabile gratuitamente. Grazie, grazie a tutti e buona giornata. Buona giornata, arrivederci, grazie Francesco. Dal Museo della Radio passiamo a un altro aspetto.